Salve, sono Simone Brancozzi, consulente aziendale, revisore contabile e sono l'idiatore del Cuscotto di Controllo. Oggi parleremo del margine di contribuzione per le aziende che operano su commessa. Il margine di contribuzione è l'elemento fondante dell'azienda perché ha la base dell'equilibrio economico. Se il margine di contribuzione prodotto giornalmente riesce a coprire tutti quanti i costi indiretti, l'azienda ha le risorse necessarie per pagarsi i debiti e per sostenersi e anche per investire sul suo futuro. Ma se noi abbiamo un margine di contribuzione negativo, alla lunga questo margine di contribuzione negativo erode la ricchezza e quindi intacca anche le situazioni finanziarie più solide che voi possiate trovare. Quindi un buon professionista, anche quello che va a installare il Cuscotto di Controllo, la prima cosa che deve domandare è state misurando il margine di contribuzione? Se la risposta è no, bisogna fermare la consulenza lì e finché l'azienda non produce quotidianamente il risultato del margine di contribuzione non bisogna andare avanti, perché se non si riesce a misurare il margine di contribuzione c'è solo una risposta da dare all'impresa. Chiudete che è meglio, fate meno danni. Il problema dell'azienda su commessa, e quindi per commessa intendo aziende che fanno prodotti che possono impiegare più giorni, quindi una settimana, un mese, tre mesi, anni, io debbo stimare il valore della commessa che si crea a fine giornata e confrontarlo con quello del giorno precedente. Quell'incremento di valore al netto dei costi diretti che ho messo nel giorno è il margine di contribuzione. Io ricordo che le vecchie aziende eredi, quelle che andavano bene, avevano un geometra che tutte le mattine andava a prendere le misure che stava facendo, stava vedendo il progredire dei lavori e li quantificava in soldi e portava lo stato d'avanzamento al cliente per chiedere il pagamento dello stato d'avanzamento, ma anche per controllare se il cantiere era progredito in maniera efficiente ed economica, perché se tu non lavori bene nel cantiere, il cantiere non progredisce. E come fai a sapere se i tuoi operai sono stati organizzati bene, se hanno battuto la fiacca, se sono troppi? Devi misurare il margine di contribuzione, quindi molte difficoltà, io direi quasi tutte le difficoltà delle aziende che operano per commessa derivano dalla mancanza del calco del margine di contribuzione. Allora, fra l'altro è una cosa abbastanza semplice. Adesso prendiamo ad esempio una commessa di 320.000 euro, cioè alla fine del lavoro la commessa ci verrà pagata 320.000 euro. Per fare questa commessa abbiamo stimato, ovvio che è una stima, ma per poter fare un preventivo dobbiamo per forza fare una stima, che le ore di manodopra interna, le nostre, quelle che paghiamo noi, preventivate sono 300 e abbiamo previsto ore di manodopra esterna, cioè fornita da terzi, per 20. Quindi le ore totali di manodopra per finire questo lavoro sono 300, 320 scusate. Quindi quando io raggiungo le 320 ore dovrei aver compiuto la commessa, dovrei aver terminato la commessa. Ora, al giorno X io ho fatto una rilevazione, cioè a che punto è la commessa? Allora, molti fanno occhio, vanno lì, abbiamo fatto circa il 50%, ecco l'occhio ovviamente sbaglia, perché non è una misurazione precisa, ma molto meglio dire ad oggi ho impiegato sul cantiere o sulla commessa 160 ore, quindi la metà di quelle che dovrei impiegare. Va da sé che se mi fermassi oggi la commessa dovrebbe valere la metà di 320.000, cioè dovrebbe valere 160.000 euro. Quindi faccio che il valore di commessa alla data X è 160 euro. Rifaccio la stessa misurazione nel giorno X più 1, che potrebbe essere 6 giorni dopo, 7 giorni dopo, un mese dopo, il giorno dopo, comunque, le ore impiegate sono 192, cioè la commessa è progredita, quindi sarebbe il 60% di 320, la commessa è progredita di un 10% e infatti si è incrementata di 32.000 euro, esattamente il 30%, quindi io faccio il 60% di 320, 192, 10% di più di ieri. Questi 32.000 euro di avanzamento, questi 32.000 euro di avanzamento, sono il margine lordo, cioè sono l'incremento del valore della commessa che sto portando avanti. Ma la commessa si è incrementata di valore non solo perché io l'ho portata avanti con le mie ore, ma perché ho messo dentro dei costi per prodotti, per materiali, per impianti, cioè ho portato sul cantiere alcune cose. Quindi io su questo incremento lordo vado a togliere il costo delle lavorazioni esterne, magari il costo dei prodotti, cioè tutto quello che ho immesso nella commessa quel giorno. Quindi faccio 32.000, meno i costi diretti, quindi le ore dei terzi, i prodotti, gli impianti, il materiale di consumo e quindi supponendo che questo sia 2.000, io ottengo che il margine di contribuzione dal giorno X al giorno più 1 della commessa è stato 30.000. A quel punto il margine di contribuzione dovrebbe essere superiore ai costi fissi che ho sostenuto dal periodo X al periodo X più 1, supponendo che sia una settimana, metto i costi fissi giornalieri moltiplicati per 5 o per 6 a seconda di quanti giorni ho lavorato e mi deve venire un importo inferiore. Perché? Se il totale dei costi fissi che si è verificato nel periodo da X a X più 1 fosse superiore al margine di contribuzione netto, significa che ho rimesso, significa che la commessa avanza troppo lentamente. Guardate la quantità di informazioni che mi dà, avanza lentamente perché? Perché hanno battuto la fiacca, perché non l'abbiamo organizzato bene, perché i fornitori non ci hanno fornito la quantità delle merce conforme all'ordine, nella qualità e nella quantità, oppure l'hanno consegnata in ritardo. Cioè la misurazione del margine di contribuzione porta tutta una serie di considerazioni, anche qualitative, che sono all'origine delle crisi aziendali, sono all'origine e alla base delle fortune aziendali. Quindi adeguato assetto organizzativo amministrativo contabile, 2086 secondo comma, vuol dire anche, soprattutto secondo me, misurare quotidianamente il margine di contribuzione, soprattutto nelle aziende che producono per commessa faremo anche, ci sono già anche le lezioni sul margine di contribuzione per aziende di produzione e per aziende di commercio. Un caro saluto!